Il mezzogiorno baricentro della strategia geopolitica dei paesi del Mediterraneo, al centro del forum verso sud che si è svolto a Sorrento. Al confronto che quest'anno ha coinvolto 19 paesi, hanno preso parte anche i governatori di Abruzzo e Molise, oltre che numerosi ministri del governo, come Antonio Tajani, Raffaele Fitto, Gilberto Pichetto Fratin e Nello Musumeci. Nel suo intervento il presidente abruzzese Marco Marsilio ha sottolineato l'importanza delle infrastrutture che uniscono l'Adriatico al Tirreno. Da Pescara a Roma ci vogliono 3 ore e 22 minuti in treno. L'Aquila è l'unico capoluogo di regione senza un collegamento diretto con la capitale, pur stando a 100 chilometri. Questo è inaccettabile, ha detto Marsilio. Questo è il tema che ha continuato. Credo debba diventare il cuore del ragionamento della crescita del paese tutto intero, non solo dell'Abruzzo o del sud. La carenza infrastrutturale è la vera zavorra che impedisce la crescita. Collegato da remoto il governatore Donato Toma, che ha evidenziato l'importanza di affrontare le sfide economiche, ambientali, climatiche, demografiche e sociali delle aree urbane, e soprattutto di quelle interne, come il Molise. I presidenti del sud hanno ribadito anche un'altra urgenza, quella di accelerare i tempi per la fruizione effettiva dei fondi europei e delle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione.